Il Vangelo di oggi ci dice Sapete bimbi, Dio ha scelto proprio i piccoli, come voi bimbi, vi ha scelti per rivelarsi e mostrarvi tutto il suo grande amore Vi ha scelti anche perché sa che proprio voi potete prendere per mano mamma e papà e insegnare anche a loro ad essere piccoli, un po' più come voi Così da riuscire a conoscere tutto il grande amore di Gesù Nel Vangelo sempre Gesù dice anche Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro Avete presente bimbi, quando siete stanchi, magari avete fatto una corsa Oppure avete il cuore stanco e triste perché magari avete litigato con un amichetto o qualcosa è andato storto a scuola Bene, proprio in questi momenti Gesù ci abbracciò ancora più forte del solito E ci dice proprio di andare da lui con le nostre tristezze Perché lui non ci lascia soli, ci stringe forte e condivide con noi anche questi momenti Grazie a tutti